Ben ritrovati i miei cari avventori di Luisona, bar calcio avvolti nel nostro flanellato e in una postazione che un tempo ci faceva sbraitare in maniera vivace. Voglio quest'oggi appunto da qua fare il pre-partita di Frosinone. Tutti ci ricordiamo, lei fu Frosinone, il 0-4 che ci rifilarono qualche stagione fa e da cui c'è qualche d'uno che disse lì da tutto partì. Poi io avrei qualcosa da ridire, sicuramente da lì qualcosa si risvegliò, però insomma da partire io dico che si è partiti realmente da quando è arrivato Sartori e Tiago Motta. Prima il Bologna era una bella addormentata tra le torri. Detto questo andiamo adesso a ripercorrere quanto è stato detto in questa conferenza stampa da Tiago Motta che cosa è emerso, qualche punto interessante, più che punto spunto interessante c'è stato e adesso ne andiamo a raccontare insieme. Prima di iniziare fate queste cosine qua dietro. Amarakman, iscrizione e condivisione, mi piacino, è importante. Per questo magico, magnifico, sommo non che erudito canale. Permesso e concesso, grazie. Una su tutte è stata, diciamo, a mio avviso quest'oggi una risposta molto interessante ad una domanda che sicuramente si distinta fra le altre, fa il piattume generale delle domande che vengono fatte ogni santa volta nella conferenza pre-partita. Un giornalista ha detto e ha chiesto a Tiago Motta una volta hai detto del Bologna che questo Bologna fa bene al calcio, ce lo puoi argomentare meglio? È stato chiesto a Tiago Motta e Tiago Motta ha argomentato meglio ed ha praticamente argomentato una roba che adesso andiamo a dire velocemente ma che su questo canale mica tanto velocemente l'abbiamo detto in quanto ci abbiamo messo due anni e passa i solari e ci abbiamo anche lasciato probabilmente dei mesi di vita almeno io sicuramente. Per chi si ricorda quanto ho sbraitato su determinati punti che cosa ha detto, che cosa ha risposto di fatto Tiago Motta a questa sua stessa disamina che ha fatto dicendo questo Bologna fa bene al calcio. Tiago Motta dice che ovviamente non solo in Italia ma è nel mondo che si ha voglia di vedere una squadra che prima versava in difficoltà quale in dubbio era il Bologna perché negli ultimi anni, negli ultimi decenni sicuramente il Bologna ha praticamente solamente quasi sofferto e tutto ad un tratto come se ci fosse stata una bacchetta magica questa della bacchetta magica la aggiungo io ma è tanto per far capire meglio il concetto ad un tratto la squadra cambia e si risveglia e sa e riesce a competere anche con quelle squadre che un tempo sembravano inavvicinabili e questo Tiago Motta che cos'è che ha aggiunto sul fatto di fare bene al calcio perché dimostra una cosa che molti a volte si dimenticano e noi tifosi del Bologna per molto tempo e molti anni ci siamo dimenticati. Attenzione, quello che io cercavo di risvegliare nella coscienza della nostra dirigenza e anche nella coscienza di noi tifosi, attenzione perché attraverso il duro lavoro la voglia all'unisono di avere un obiettivo comune fa la differenza quella sorta di ambizione sana da riversare nel gruppo e finalmente se ci metti questi ingredienti di duro lavoro e appunto attenzione, concentrazione negli allenamenti in primis che poi si riversano nella partita e si ottengono i risultati che si stanno ottenendo in questo mentre e sono parole che devono riecheggiarci nella testa il più a lungo possibile perché purtroppo il tempo leviga e il tempo fa dimenticare ed è questa la cosa che a me più preoccupa io voglio imprimermi e cercare di imprimere nella testa di ognuno di noi quello che Tiago Motta ci ha risvegliato nel senso che noi eravamo ormai abituati a stare seduti a vivacchiare, ad accontentarci perché no sembrava che ormai fosse irraggiungibile il gota del calcio invece sono arrivati due signori Tiago Motta e Sartori ci hanno dimostrato che il duro lavoro ripaga ragazzi il duro lavoro ripaga certo il duro lavoro viene richiesto da più personaggi non ne basta uno, non bastava il solo Tiago Motta non bastava il solo Sartori ci volevano Sartori in dirigenza Tiago Motta nella conduzione tecnica tattica è un gruppo fantastico che ha tensione però un gruppo fantastico che è stato plasmato da un allenatore da un dirigente fantastico perché io voglio sottolineare un aspetto che Tiago Motta perché è un signore e non lo sottolinea ma molti giocatori che c'erano anche nel recente passato non erano i giocatori che oggi dimostrano di saper essere perché io voglio ricordare innanzitutto la rivoluzione che Tiago Motta e Sartori hanno fatto è mandare via quei cadaveri di giocatori che non riuscivano ad avere una mentalità ambiziosa e i nomi non ne voglio fare ma voglio farne uno su tutti, Orsolini Orsolini, attenzione nei tempi precedenti, antecedenti a Tiago Motta non era certamente l'Orsolini che oggi ci ricordiamo attenzione, era un Orsolini di cui si era depauperato l'intero valore del cartellino e le prestazioni che oggi lo vediamo fare in campo erano un lontano e sbiadito ricordo voglio ricordare questo risottolineando l'aspetto che sottolinea lo stesso Tiago Motta che è la cosa principale di questa conferenza perché molti altri non ne sono venuti il duro lavoro ragazzi, il duro lavoro ripaga e noi ce lo dobbiamo stampare nella mente cosa vuole dire avere ragazzi dotati di cervello intendo nel gruppo squadra che ha voluto, ripeto, hanno voluto Sartori e Tiago Motta lo stesso Tiago Motta ha la capacità di un allenatore uno di far capire al proprio dirigente di che cosa ha bisogno di descrivergli i profili di cui lui avrebbe bisogno per far vedere e spiegare e insegnare il suo calcio e Tiago Motta è stato bravissimo a far capire che cosa si volesse da loro e insomma non si agisce solo sulla mente non si agisce solo sul campo è un'azione a 360 gradi e Tiago Motta è riuscito in tutto questo in maniera fantastica e questa secondo me è la cosa è la cosa essenziale la cosa che ha permesso e qui ritorniamo ad inizio di questa conferenza di far crescere sia Tiago Motta ma anche il Bologna all'unisono insieme siamo cresciuti tutti insieme veramente è stata una ed è perché non è finita una cavalcata fantastica e che adesso deve proseguire a Frosinone per andarci a riprendere ciò che ci appartiene cioè l'Europa e per andarci a riprendere ciò che ci è stato tolta la dignità qualche stagione fa in quel famoso 0-4 niente contro di per sé al Frosinone a dire il vero io non ho niente contro al Frosinone però dopo domani andare a vincere al Frosinone bene e chissà magari sarebbe il mio sogno 0-4 sarebbe bellissimo magari ma non tanto ripeto per il Frosinone quanto per chiudere un cerchio una vittoria per 0-4 dopo domani sarebbe qualcosa che forse mi potrebbe addirittura far piangere perché potrebbe voler dire tanto da un punto di vista si dice del karma delle congiunzioni astrali ripeto niente contro al Frosinone però era per chiudere un cerchio dobbiamo comunque fare attenzione a non sottovalutare il Frosinone perché in casa lo stesso Tiago Motta lo sottolinea la pericolosità la maggior parte dei punti li hanno ottenuti fra le muramiche di Francesco seppur sicuramente qualche cosa non è riuscito a incastrare nelle terselle del puzzle in maniera corretta e dello stesso Tiago Motta da me lo sottolineato è indubbiamente una squadra che propone gioco e se gli si lascia il pallino in mano c'ha giocatori e vedi Sule ad esempio per citarne uno su tutti che possono farci male quindi noi domani si dopo domani si deve fare massima attenzione e ribadire il calcio a cui Tiago Motta ha impartito da quando è arrivato qua massima organizzazione concentrazione equilibrio e se noi ci mettiamo tutto questo insieme al rispetto degli avversari noi sicuramente dopo domani abbiamo tutti gli ingredienti per uscire da Frosinone con un risultato che recita 3 puntati 3 non mezzo di meno per continuare ad elementare il nostro sogno massimo che a questo punto non è solo l'Europa perché quasi ormai l'Europa è mi tocco i maroni mi li ravano una certezza ma a noi si vuole a questo punto alla massima competizione europea ossia la Champions League perché proprio nell'anno in cui il prossimo vi sarà il nuovo format secondo me avere il Bologna alle prese di quel format nuovo otto gare quattro in casa senza contare tutti gli monumenti che ci verrebbero appunto corrisposti solamente per giocare le partite è un qualcosa di vitale per questo Bologna e per il suo stesso futuro per provare a convincere e continuare a vincere tutti insieme e rilanciando ma adesso come dice Tiago Motta pensiamo solamente a Frosinone perché il nostro futuro è Frosinone e punto Frosinone è la prossima tappa della partita più difficile che si possa in questo momento immaginare e veramente bisogna scendere in campo portandosi addosso e addosso tutto l'entusiasmo che recita quest'oggi il clima di Bologna che praticamente saremo fuori casa ma è come se giocheremo in casa con tutto il tifo che facciamo allo stadio fuori e che si respira entusiasta è lo stesso Tiago Motta nel vivere questa situazione che dice che è fuoco da ardere e che quindi è un punto assolutamente a nostro favore quindi dopo domani si deve ragazzi e noi si può io sono convinto di questo poi Beokema ha fatto intendere che non partirà dal primo minuto sicuramente ma che ci sono dei ragazzi che in questo momento non lo faranno rimpiangere sicuramente la coppia dei centrali sarà composta da Calafiori e Lucumi ok detto questo gli hanno chiesto visto e considerato che di recente ha detto che Calafiori ha un quid in più rispetto a molti altri centrali in Italia e che sicuramente ha un radioso futuro anche nazionale gli hanno chiesto una parola anche sull'alto Riccardo Orsolini e però giustamente Tiago Motta non ha voluto rilasciare oltre parole sui singoli perché bisogna pensare da gruppo e poi non sarebbe giusto dunque fare una disamina a cada uno e quindi ha subito tranciato la domanda tornando al gruppo il gruppo deve remare all'unisono tutti insieme verso un unico obiettivo senza stare a riflettere oggi sui singoli oggi c'è il gruppo il gruppo Bologna che deve andare a prendersi quello che sappiamo quindi i miei carissimi avventori Amrachmand box commenti a vostra disposizione se avete qualcosa voi stessi da rilasciare il vostro momento per il resto io aggiungo campanaccio pastorale sempre attivo e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar e noi ci sentiamo